Rossi non lo vuole, patroni griffi sì, in mezzo un mare di nì, forse vediamo come tira il vento e all'improvviso sempre in mezzo spunta una torcia che per Brindisi sarebbe la terza, bella alta, 45 metri, anziché interrata perché costa di più. Il vento che ha soffiato su Brindisi in questi giorni ha portato alla luce il non detto su quel famigerato deposito di GPL da 20.000 metri cubi, progetto di Edison palesemente contrastato solo dall'ex primo cittadino e dai suoi fedelissimi di ieri e di oggi poiché l'impianto alimentato da fonte fossile sarebbe svantaggioso per lo sviluppo della città e del porto che ci rimetterebbe di sicuro una banchina, quella dedicata ad Edison e forse anche la possibilità di utilizzo del raccordo ferroviario. E' storia che la passata amministrazione abbia impugnato gli atti autorizzativi e agli atti che l'attuale abbia ritirato il ricorso al TAR contro la decisione di realizzazione dell'impianto. E' ovvia conseguenza l'accelerazione dell'ITER autorizzativo con la firma delle concessioni a prezzo ridotto di 200.000 euro da parte dell'autorità di sistema portuale. Applauso iniziale a dispetto della politica dei noi imbarazzo finale di fronte ad una torcia che sfiammerà esattamente come le altre per garantire quella sicurezza intrinseca richiesta agli impianti chimici. Una torcia che, come sottolineano le associazioni ambientaliste che per il 24 agosto hanno organizzato una manifestazione di protesta, non si può cancellare dal progetto come qualcuno ipotizzerebbe. Nel frattempo l'onorevole Mauro Dattis, seppur favorevole alla realizzazione dell'impianto, chiede approfondimenti e chiarimenti all'azienda. E sempre nel frattempo, sempre in maggioranza, c'è chi la notte non dorme e scrive su Facebook luce sì ma non quella di una torcia, un impianto insomma dal facile sgambetto fatto a quelli di ieri a rischio per quelli di oggi.